Allora, innanzitutto ringrazio Renato Rucci, non c'è ESCO, si vede bene, il tuo ruolo prima era Global Head, e c'era di avere un policy learning academy, di non si sapeva che organizzazione, e quindi sembrava uno di MERS, e in realtà tu sei stato poi uno di noi, quindi a maggior ragione. Benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie a te Marco, e una buona giornata a tutti. Allora, noi facciamo invece una conversazione un po' diversa, un po' più concreta, per cui da macro trend di scenari, intuizioni, sensazioni sul futuro, parliamo invece di temi che questa comunità dovrà affrontare o sta affrontando già quotidianamente, e quindi vogliamo fare una riflessione sull'inflazione, cioè specifica sull'inflazione. Allora, tre momenti abbiamo insieme, ci siamo un po' preparati. Il primo momento è di scenario, quindi io ti chiedo dal tuo punto di vista, per i ruoli che hai, che hai svolto, e anche per la tua conoscenza un po' del nostro settore, proviamo a inquadrare il tema. Noi stiamo andando verso uno scenario inflazionistico ormai reale, che oscilla tra l'8, 5, 9, qualcuno dice un X per cento in più, alcuni di noi intorno a questa sala non hanno mai vissuto uno scenario inflazionistico, altri, quelli con i capelli un po' più grigi l'hanno vissuto, però quelli giovani non sanno neanche cosa vuol dire uno scenario inflazionistico. I tassi sono molto alti, c'è una crisi del mercato, evidentemente, delle materie e delle di fornitura, e poi c'è un potere d'acquisto più basso delle famiglie e ovviamente dei lavoratori. E poi ci sono le aziende che devono fare i conti col conto economico, col PNL che dice ok, sei tutto bello, fantastico, i charmi, i racconti, i progetti stupendi. By the way, quello che hanno detto oggi Kate e Ravin, secondo me, mentre io gli raccontavo veniva sempre questa domanda, se fosse stato al vostro posto, ma io come vendo quest'idea al mio CEO? Cioè come la costruisco quest'idea? Cioè il modello Unilever, sarebbe interessante chiedere a Ravin, come hanno, come il, perché, why the CEO of Unilever say yes about this project, no? And what were the action, the idea, the journey that the HR did to, let me say, to sell the project to the CEO of Unilever. Quindi c'è sempre questo retropensiero, no? Sul, che noi dobbiamo agire. Quindi, macro domanda di scenario, Renato, qual è la tua visione? Dacci qualche, diciamo, direttrice. Grazie Marco, di nuovo buona giornata a tutti. Allora, credo che la premessa per rispondere alla domanda che si stanno facendo in molti oggi è la domanda che ci si fa, su cui la risposta può non essere univoca è ma l'inflazione è qua per restare o no e per quanto? E gli effetti di quella che si è prodotta fino a oggi sono permanenti o in parte revocabili? Allora, su questo diciamo che la view più diffusa, poi possiamo discutere se essere d'accordo è che l'inflazione acquisita oggi, quindi questo 7,5, 8, 8, 9, perché poi, come dire, il tendenziale, il congiunturale ha sfondato il 10 in Europa, siamo a 10,5, quindi poi muoveremo la media dell'anno dove sta sesta, è qua per restare per la maggior parte. Anche i più ottimisti ti dicono che si può rientrare di quota parte di questo 8, 8,5, per quella componente che dipende dalle materie prime, dall'energia, che ci si augura che perlomeno nel secondo semestre del prossimo anno, perché per ora il gas fa così, ora scende ma poi risale, lo sappiamo già, possa in parte offsettare l'aumento che c'è stato. Fermo che l'esperienza storica di altri contesti non inflattivi in senso tecnico macroeconomico ma microeconomicamente inflattivi, l'ingresso dell'euro, che ci ricordiamo un po' di più, ci dimostra che in un paese di piccolo commercio al dettaglio, di piccola attività imprenditoriale, l'inflazione non torna indietro. L'esempio pratico da economista da portacanto, il caffè che da 1,10 a Milano passa a 1,20, 1,30, non torna a 1,10 se la bolletta del gas scende. Resta 1,10, 1,20, 1,30. Quindi diciamo che la prima informazione è che l'inflazione è qua per restare. Quest'8% resta, i più ottimisti dicono diventa 6, diventa 5, ma un pezzo ce lo portiamo a casa. Quanto si raffredderà? Quanto rapidamente? La seconda parte di domanda. Allora, la visione governativa di molti centri studi, incluso il nostro, di Intesa San Paolo, è che nella seconda parte dell'anno ci sia un raffreddamento. Quindi questo 8% non rimane come tasso di crescita e non quindi quello che abbiamo acquisito oggi. Non continua a crescere dell'8% ma dovrebbe scendere. Anche se anche qua le visioni più ottimistiche di due mesi fa era che si tornasse a condizioni quasi normali grazie anche all'azione della ABC e sui tassi. Adesso stiamo già meno ottimisti. Quello che si pensava potesse essere un 3% a fine anno prossimo di nuova inflazione, diciamo si pensa che sia il 5%. Quindi chiudendo questa piccola parentesi macro, l'inflazione è qua per restare in larga parte. Quello che è cresciuto come costo della vita resterà per la maggior parte. Potrebbe non crescere ancora la stessa velocità ma decelerare nella seconda parte del prossimo anno. Quindi un problema di potere d'acquisto ce l'abbiamo, un problema di motivazione delle persone ce l'abbiamo. Come lo risolviamo? Anche perché per le aziende c'è un tema di motivazione delle persone, eventuale investimento sul costo del lavoro, ma c'è pure un problema di costi operativi. Per un'azienda come Intesa l'impatto dell'energia banalmente per la gestione luce, gas, elettricità delle filiali piuttosto che dei building, vuol dire qualcosa che impatta più di 100 milioni di euro, non faccio il numero che non lo posso fare, ma è più di 100 in un anno. Su 2 miliardi e 2 di costi operativi che abbiamo circa è tanto, è il 5% solo quello. Quindi c'hai già un problema di conto economico. Allora che si fa? Aggiungo l'ultimo elemento. L'Italia è un paese complicato perché abbiamo anche i contratti collettivi nazionali che magari in Inghilterra giocano un ruolo diverso, reddito minimo, salario minimo, che però è tutto un altro gioco, no? Voglio dire. Allora, quello che vi possiamo dire, che vi dico, che abbiamo visto con Marco è circa il 50% della forza lavoro italiana ha vissuto negli ultimi sei mesi il rinnovo dei suoi contratti di lavoro, per circa il 50% della massa monetaria. Ed è divertentissimo vedere che, poverini, gli agricoltori, dico io, hanno fatto il rinnovo a maggio, che ancora, come dire, la si viveva in maniera più ottimistica, più 4,70. Che comunque è tanta roba, considerando che se l'avessero fatto un anno prima era 2. Ok? Da maggio non si va sotto il 7 e c'è anche un settore che si è permesso un simpatico 13,50. Proprio quelli che ci fanno pagare le bollette, by the way. Gas e acqua. Che lo sanno meglio degli altri, quindi hanno fatto 13,50 pronti. Stanno tutti però fra il 7 e il 10. Ci abbiamo l'altro 50%, tra cui noi, le banche, che rinnoveranno il prossimo anno. E che se fa? Quindi il primo tema per le aziende, e poi chiudo questa prima parte della domanda, è noi abbiamo la spinta del contratto collettivo, che impatta quadri impiegati e ti dà un boost di aumento stabile. Poi sapete che il contratto collettivo l'aumento non lo fattorizza in un anno. Non è che ti danno a fronte il 9%, l'8%, te lo danno spalmato. Tutti i rinnovi hanno previsto tre tranche mediamente, che è poi lo standard. Quindi lo recuperi in tre anni. Però quello che ci dice la storia di questi sei mesi nei rinnovi in corso, e c'è quello delle assicurazioni che in chiusura, non credo di fare nessuna disclosure o rovinare la trattativa se dico che chiuderanno intorno all'8 e mezzo 9 pure loro, ma adesso, proprio mentre parliamo, vuol dire che il primo dato è che il contratto collettivo recupera l'inflazione maturata sino ad oggi, ma la spalma nel tempo. Non si occupa di quella futura. Questo credo che spieghi, e chiudo, il fatto che molte aziende italiane hanno scelto ad oggi di fare prevalentemente interventi una tantum, di non prendere decisioni rispetto a aumenti stabili della remunerazione, ma di fare interventi una tantum che tamponino il bisogno di cassa, di liquidità dei propri dipendenti. Poi magari, Marco, entriamo nel tema tutti, a chi, come, eccetera. Ma si siano mossi una tantum anche perché c'è la spinta poi dei contratti collettivi che sta sotto per metà dei settori avvenuta, per l'altra metà di qui a un anno. Quindi, che tra l'altro, scusami, è un dato che però curiosamente fa match con la ricerca che Mercer ha pubblicato, che abbiamo letto anche sul Sole, qualche giorno fa, dieci giorni fa, quindici giorni fa, in cui si dice che lo strumento del lunatantum è stato quello preferito da tutti. Ma perché? Perché c'è un tema di wait and see. Metto una mano, come dire, in tasca ai dipendenti, dandogli la possibilità, in senso buono in questo caso, non prendendo, ma dando, per dargli la possibilità di gestire la crisi del momento, la bolletta pazza, ma allo stesso tempo non intervengo in modo strutturale sul costo del lavoro, perché un po' ci pensa al contratto collettivo nazionale, un po' cerco di capire lo scenario. Credo che make a lot of sense, è quello che vediamo in giro e che di fatto, di fatto, mi sembra faccia match anche con la ricerca e ha senso. Sì, assolutamente. Sei entrato in intesa, no? Cioè, facendo dei riferimenti sulla... Quindi, secondo me, mi interessa molto capire qual è il vostro pensiero su questo. Cioè, quindi, concretamente, perché mi sembra che qui si va da interventi che abbiamo visto anche la nostra ricerca diceva temporanei tampone, no? Di sostegno e di aiuto. Un po' anche favoriti, no? Ci sono stati poi vari bonus che il governo ha messo a disposizione, quindi le aziende hanno preso questi bonus, li hanno utilizzati e poi hanno fatto una serie di manovre. E devo dire abbastanza tripartizzano, no? Sia aziende patronali che aziende multinazionali, che aziende, diciamo, possedute da fondi, che aziende possedute dallo Stato, sono intervenute in questo modo. Dall'altro lato, però, giustamente, tu tracci uno scenario ormai non più sit and wait. Cioè, c'è proprio da fare wait. È così. Il nuovo mondo prevedrà, ovviamente, un'inflazione più ampia, controllata, speriamo ragionevolmente, dai banche centrali. Però ci sarà uno scenario inflattivo con cui noi dovremo necessariamente, diciamo, giocare. Tra l'altro, anche positivo, perché se è uno scenario inflattivo c'è anche un tasso positivo, no? Quindi anche i tassi per voi, insomma, è anche, si è visto l'effetto poi dalle ultime trimestrali sui tassi di interesse. Però intesa, no? Quindi dacci, insomma, intesa è, insomma, una delle leading company nel nostro paese, non solo nel nostro paese. Dove state andando? Che pensieri avete? Cosa volete fare? Quello che ci puoi ovviamente raccontare pensando che tutte le persone qui davanti apriranno le meritocratiche tra contratti rinnovati o non rinnovati, però da qui ai prossimi mesi. Voi concretamente cosa state immaginando di fare e cosa avete fatto? Allora, noi in parte siamo in scia col trend che avete tracciato nell'indagine, nel senso che la cosa che abbiamo fatto per prima è stata quella di un intervento una tantum di 500 euro per persona con un criterio legato al reddito. Quindi noi abbiamo dato 500 euro una tantum prima dell'estate a tutti i dipendenti che guadagnano fino al livello di accesso alla dirigenza. Quindi 60.000 è fischia nel settore del credito, per cui che tu sia quadro impiegato ok, se guadagni come un dirigente no, se guadagni meno di un dirigente 500 euro, come dire, di una tantum. Una tantum che stiamo provando anche a nettare per i dipendenti da un punto di vista fiscale, se questi riusciranno a dimostrare che l'hanno investita, lasciami dire, per pagare quelle cose per cui lo Stato ha previsto lo sgravio fiscale, quindi per esempio le bollette. Quindi se portano, come dire, la ricevuta delle bollette dovremmo riuscire a ottenere anche dall'agenzia di entrate che i 500 euro che abbiamo dato siano netti e non lordi. È un'iniziativa unilaterale dell'azienda, non l'abbiamo negoziata col sindacato, l'azienda ha deciso unilateralmente di farlo. La seconda cosa, noi avevamo già nella piattaforma welfare del gruppo, welfare hub, i buoni benzina, quindi ovviamente quello è stato gioco facile, semplicemente ci siamo giovati dell'incentivo fiscale che è stato messo sui 200 euro e questo è quello che abbiamo fatto a Ptunau. Noi crediamo, e qui aggiungo due tasselli, ovviamente abbiamo un approccio, noi abbiamo anche un contratto collettivo di secondo livello cosiddetto, quindi un integrativo o di prossimità, poi qui ci si divide in termini di ideologia, come dire, su questi temi se lo chiami di prossimità o di secondo livello, però insomma aggiungiamo qualcosa al contratto nazionale, qui è di prossimità esatto. Il tema diventa, noi dovevamo rinnovarlo e abbiamo deciso di prendere una decisione a giugno del prossimo anno, perché vogliamo capire che aria tira a livello di contratto collettivo nazionale. Faremo anche noi più 9, più 8? Faremo di meno? Faremo di più? In che tranche? Che c'è altro? Quindi lì abbiamo un approccio di moderato wait and see, a giugno si vedrà, a giugno si deciderà, però non siamo intervenuti in questo momento. Un ultimo elemento su quello che abbiamo fatto noi, o che anzi due, velocissimamente, uno è, noi riteniamo comunque che il tema dello smart working sia un tema che è funzionale in questo scenario, nel senso che per le persone è in parte una riduzione di costo sicuramente, nel senso che i costi di commuting famosi, di cui tanto si parla, oltre a giocare all'ambiente, giovano anche al singolo che sta a casa e poi ci sono una serie di altri costi indiretti che risparmi, la famosa babysitter, la famosa tata che non prendi, no? Quindi tutta una serie di risparmi che le persone possono mettere in piedi semplicemente stando a casa. Noi riteniamo che quindi questo, in questo contesto, abbia di nuovo ancora valore, come l'ha avuto per la pandemia, per altri motivi, per consentire un recupero di reddito implicito. Voi sapete che noi siamo in trattativa, in questo momento ancora in trattativa, da luglio, per la settimana corta, su base volontaria, quindi noi non stiamo facendo un ragionamento del tipo tutti i venerdì, tutti a casa per chiudere i building, questo no, stiamo facendo un ragionamento di flessibilità, il famoso 4 per 9, più ore al giorno, quando vuoi tu, perché la fascia oraria te la scegli per 4 giorni da settimana, non devi nemmeno passare a questo regime per sempre, puoi fare anche misto, un po' 4 per 9 e un po' 5 per 7 e mezzo, no? Stiamo negoziando... Molto fluido. Molto fluido, come è giusto che sia in questo periodo, diciamo. Per noi è un valore, ovviamente chiudo rapidamente su questo, è chiaro che si dice c'è anche un costo per il dipendente rispetto al fatto che sta a casa e quindi paga più energia e qui è la trattativa sindacale. Quindi gli dai i soldi per mettersi sulla postazione? Gli dai dei soldi per pagarsi un po' più di bollette? Che facciamo? Noi in questo momento stiamo lavorando per riconoscere una parte del ticket, per esempio, che non spetterebbe da contratto a chi sta a casa per fidanziare, come dire, qualche spesa aggiuntiva, piuttosto che non stiamo trattando, non so come finirà, se daremo o non daremo un contributo per farsi la postazione a casa. Allora, secondo noi questo gioca. Ultimo elemento, il tema inflattivo non sposta, anzi rafforza l'attenzione alle popolazioni critiche dal punto di vista retention e skill. Qui più che di performance io parlerei di retention e skill, delle varie categorie che voi anche nell'indagine ponete, no? High retention risk, come dire, i big owner di knowledge e di skill, piuttosto che gli high performer. Noi stiamo su skill, in particolare le skill critiche, molto interessante quello che ho sentito perché stiamo ragionando su approcci skill driven, in particolare nel mondo IT, quello che diceva Ravin risuona molto sui ragionamenti che stiamo facendo per l'area IT, digital, tech, non li chiamiamo più IT, se no pare brutto, pare brutto, tech, tech assolutamente, manco più digital e high retention risk in alcune aree critiche del business. Una per tutti, il famoso famigerato trader, qui ci sono rispettabilissimi competitor con cui però non ci facciamo la guerra su questi, con altri magari sì anche aspramente in questo momento e quindi lì ovviamente la politica retributiva non si può fermare, è però iper selettiva e anche aggressiva perché non ti puoi permettere sugli high risk o sui knowledge owner su cui stai investendo di non fare una politica meritocratica però nuova, cioè o molto market driven sugli high retention risk o bisogna lavorare sui concetti di skill come diceva Ravin, come diceva Kate, è fondamentale, lì ci stiamo provando, non abbiamo ancora un modello però quello che ho sentito è molto interessante ma risuona molto con l'approccio che vorremmo tenere. Grazie, molto interessante, insomma poi si potrebbe fare un'altra domanda, non te la faccio e poi come li avete mappati, no? Qual è il criterio di mappatura degli high skill ed employee, no? Degli retention skill ed employee e anche poi come effettivamente poi li andate a ingaggiare, però magari la facciamo in un pomeriggio, la facciamo in un altro momento. Visto che manca poco al break, uno stimolo invece sulla, non era previsto quindi faccio, tanto so che siamo su questo istrionici, uno stimolo invece sulla parte executive, no? Perché abbiamo parlato di inflazione e vabbè ovviamente il po' di acquisto impatta soprattutto sotto, però sulla parte executive, sulla parte diciamo nel vostro lessico i materiali staker o se perendo o no nel lessico diciamo industriale, cioè i ruoli che hanno maggiori accountabili sui processi operativi più importanti, che succede? Cioè qual è la tua impressione? Cioè qual è il trend e quali sono gli strumenti e come vedi il mercato, no? Perché per esempio io vengo, l'uscito perché mi ha colpito ieri, non c'è quindi posto, non faccio nessun nome né cognome, però percipa da un comitato di remunerazione e nomine in post particolare perché ho avuto un membro che ha detto ma insomma questo amministratore legato poverino che adesso ha il 10% il costo dell'inflazione e era una remunerazione come dire over 2.5 million, no? E a me il poverino mi ha un po' colpito, dopo di che poi ho detto per carità, no? Parliamo, discutiamo. Però lo stimolo è per te, no? Cioè adesso, che ne pensi? Qual è il tuo punto di vista? Che regole ci sono? Insomma, uno spot prima di poi di fare il break? È una buonissima domanda. Allora, noi siamo in una situazione fortunata, siamo stati fortunati perché siccome il piano di impresa nostro è partito a febbraio 22, noi ormai da un po' abbiamo la tradizione di fare un punto nave su tutti gli executive in occasione del lancio del piano. Quindi abbiamo fatto una campagna massiccia di review retributiva, market driven, per cui i nostri executive hanno beneficiato di consistenti aumenti retributivi tra marzo e maggio, prima che partisse la botta inflattiva. Adesso il tema è che potrebbero lamentarsi che una buona fetta di questi aumenti vengono assorbiti dal maggior costo della vita. Però i nostri aumenti, essendo aumenti che avvengono, cioè sugli executive noi la politica che abbiamo è di non intervenire spot, ma di intervenire a ciclo di piano, salvo casi particolari chiaramente, salvo situazioni di retention risk o di movimenti particolari di quel subsegmento di mercato per gli executive. Però interveniamo in modo pesante, cioè i nostri aumenti sono stati largamente superiori all'attuale inflazione, quindi c'è un assorbimento parziale perché lo facciamo ogni quattro anni, è una sorta di punto piano, per cui io il problema diciamo in questo momento dell'executive che non riesce più a pagare il leasing della barca non ce l'ho, anche perché se vengono li mando veramente in quel posto oscuro dove non batte il sole. Abbiamo poi un altro tema, siccome performiamo bene, e questa è un'altra botta di culo se vuoi in questo contesto, spingeremo sul variabile, mai come quest'anno perché abbiamo annunciato che al mercato daremo più delle attese che avevamo prudentemente rivisto trimestre precedente, il bonus c'è e lo useremo. Quindi verrà lo strumento dell'unatantum della leva variabile, verrà utilizzato in modo strong, quindi noi siamo in una condizione, lasciami dire, fortunata, ci è andata bene in termini di timing e ci va bene in termini di risultati. Io credo che il tema degli executive, se voglio riprendere quello che dice il mio amministratore delegato, in questo momento chi ha di più deve stare un attimo on hold e lasciare le risorse a chi ha di meno, credo che sia un tema ESG, come vale la pena di dire. Quindi al di là del caso intesa, se devo generalizzare, poi un'ultimissima cosa da dire, più in generale, io direi che sugli executive si adotta un approccio meritocratico in contesti più ordinari, dove non hai avuto sta botta di culo, si va di approccio meritocratico selettivo, dove c'è risk e performance, direi naturalmente, può intervenire in modo mirato, tenendo conto del contesto, ma non mi immagino azioni diffuse. Una cosa che però secondo me sarebbe estremamente importante è executive o non executive, e qui la dico perché è un tema che noi sentiamo molto, che va oltre le disponibilità della singola azienda, ma è un tema paese. Visto che si parla tanto di revisioni fiscali, flat tax, mica flat tax, eccetera, e in una delle formulazioni c'era una logica anche legata all'incremento di reddito. Ecco, io credo che una cosa utile che il governo potrebbe fare in questo momento per i executive e i non executive è dare una mano alle aziende sugli aumenti, cioè ci saranno i rinnovi dei contratti collettivi nazionali, le aziende potrebbero fare aumenti discrezionali on top of it, perché l'aumento non viene detassato o tassato in modo agevolato, decontribuito? Una volta esisteva la contribuzione di solidarietà che era al 10% invece di al 27% a carico dell'azienda. Perché non immaginiamo una decontribuzione parziale o totale e una fiscalità di vantaggio sull'aumento? Perché questo consentirebbe alle aziende di mettere più soldi in tasca ai dipendenti in termini di rapporto fra costo e netto e anche di spendere meno in proporzione, perché oggi il famigerato famoso cuneo fiscale fa sì che sia estremamente costoso mettere in tasca 100 euro a un dipendente per le aziende. Allora, in un contesto così emergenziale, perché anche non transitoriamente, decontribuire e defiscalizzare, almeno in parte, gli aumenti retributivi da contrattazione collettiva o da discrezionalità aziendale potrebbe essere un modo sostenibile per i conti pubblici, perché vai solo sul delta, ma estremamente utile per dare forza a quello che si fa quest'anno piuttosto che l'anno prossimo. Noi su questo siamo impegnati, tra virgolette, anche in un'interlocuzione che facciamo volentieri come intesa da soli o con altri attori, perché secondo noi potrebbe essere una strada per il governo per dare una mano a costi contenuti per sostenere il reddito e gestire l'equazione che dicevi tu prima tra sostegno a chi ha bisogno e profittabilità delle aziende, senza fare disavanzi o cose clamorose. Insomma, una call to action diversa, quindi se c'è qualcuno, c'è qualche capo del personale in questo gruppo o capo del comp e band che vuole aggregarsi, credo che sia sicuramente valido. Noi siamo qua. Grazie molto Renato, grazie molto. Buona giornata a tutti. Grazie.